Comunque, compà, io non mi arrendo. Tutte le mattine mi prendo un libro da rimorchio e mi vado a postare alla biblioteca delle lettere, ripetendomi tra me e me. Con un libro del genere appresso, ogni femmina cadrà in mio possesso. Grazie. Fregate che cule. Oddio che bocce. Come hai detto scusa? Io? No, niente, ripetevo a mezza voce. Ballo di famiglia, più che un libro un evento. Sì, direi. Lo conosci? Ovvio. Non lo trovi di un recchionismo un po' preoccupante? Sì. Però è quello il bello. Tu sei un'ossentessa di? Lingue. Ho capito subito. Voi ragazzi di lingue avete quest'aria così spigliata. Magari è perché acquisite prima delle altre una mentalità europea, non provinciale. Sì, è così. E tu che studi? Filosofia. Soprattutto il problema della finitezza che mette a nudo una potenza di infinità nascosta. Non so se mi puoi seguire. Facciamo silenzio, per favore. Ma se qui a Contina mi faccio a passo da gana. Che hai detto? Che se a Contina me li incula a pallettoni. Abbiamo fatto l'amore quel pomeriggio stesso. Lei è stata una furia. E io sono pazzo di lei. Amerò sempre.